Buongiorno a tutti, eccoci qui per l'aggiornamento ormai consueto del mattino. Ho da poco sentito a telefono il nostro concittadino, il caso 1, così lo chiameremo, e sta bene, sta sereno e questa è una bella notizia. Intanto si sta procedendo come da protocollo anche ad effettuare il tampone per i conviventi, è un protocollo che si adotta in modo precauzionale per poi portare a compimento quella che è l'indagine epidemiologica. Quindi non bisogna assolutamente allarmarsi per questa cosa. Intanto condanno in modo drastico il comportamento inqualificabile per chi diffonde informazioni anche sbagliate, tra l'altro spesso, di generalità, nome, cognome, foto del presunto nostro concittadino che è risultato positivo al test. Utilizziamo cortesemente, ve lo chiedo, ma anche un po' indignato, un atteggiamento serio, inutile la caccia alle streghe, abbiamo del personale qualificato che sta lavorando H24 per tutelare la nostra salute, quindi non c'è bisogno di detective e di atteggiamenti irrispettosi. Dedichiamo il nostro tempo a rispettare le regole e alle cose serie. Ve lo chiedo veramente con il cuore, finiamola e abbiamo rispetto e soprattutto comportiamoci da comunità stando vicino a chi oggi vive un momento di difficoltà per la propria salute e soprattutto di rispetto per chi sta lavorando per noi come gli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territoriale. Stasera, come già avevo preannunciato, ci sarà un massiccio intervento di sanificazione in città a partire dalle 21. Si raccomanda espressamente di non esporre indumenti dai balconi, di tenere le porte e le finestre chiuse per tutta la durata dell'intervento. Per questo intervento useremo come prodotti il germo indolore e il Quasinal 10. Inoltre sto preparando un provvedimento per le nostre farmacie dove chiederò di lavorare a battenti chiusi per tutelare la salute di chi oggi sta fornendo un servizio indispensabile. A tal proposito resta l'ordine di evitare gli assembramenti, quindi a chi va in farmacia di aspettare in fila con una distanza di almeno un metro l'un dall'altro, di non recare alcun tipo di problema a questa disposizione. Inoltre faccio una figlia amice o della fidanzata, deve essere chiaro questo messaggio, non c'è interpretazione che tenga un poco di sacrificio, lo dobbiamo fare tutti in modo serio. Allora cari ragazzi, siamo tutti responsabili. E' inutile che chiedete ai vostri genitori di andare dalla fidanzatina o dall'amichetto al piano di sotto o al piano di sopra. State a casa per favore. Inoltre ho scritto stamattina e inviato una lettera a tutte le forze dell'ordine, alla nostra polizia municipale, agli uomini della nostra protezione civile, agli operatori sanitari, ai medici e ai medici di medicina generale, per esprimere il ringraziamento per quello che stanno facendo a nome di tutta la nostra comunità. Inoltre, un'ultima cosa, non bisogna andare allo studio dei medici di medicina generale. In caso di sintomi riconducibili al covid-19, telefoniamolo il nostro medico di medicina generale, non affolliamo gli studi medici. Queste sono delle raccomandazioni che vanno rispettate assolutamente. Inoltre, ieri sera è arrivata un'ulteriore ordinanza del nostro Presidente della Regione, al quale va il nostro ringraziamento per il lavoro che si sta facendo anche in Regione Campania, il quale impedisce anche la consegna a domicile da parte delle attività di ristorazione. Quindi c'è questo aggiornamento che va chiarito. Poi, un ulteriore piccolo chiarimento, è possibile portare il proprio cagnolino a fare i bisogni. Chiaramente ieri c'era stata un po' di confusione su questo punto. È chiaro che però la passeggiata con il cagnolino, cerchiamola di circoscriverlo, nelle vicinanze della nostra abitazione, naturalmente questo è un appello anche al buonsenso. Per il momento queste sono le notizie che vi volevo dare. Mi raccomando, restiamo tutti quanti con la guardia alta e la stagione dei doveri. rispettiamo le regole e rispettiamo noi stessi e il nostro prossimo. Grazie, grazie a tutti, a più tardi.